Un po', visto che ultimamente sto sentendo dei discorsi che non capisco molto bene, perché evidentemente ho vissuto in un contesto che era una figata, perché non mi pare che ci siano problemi. Il prossimo pezzo si intitola Proibito. E' un pezzo che racconta di una relazione, magari non proprio quella usuale, è un rapporto quasi a tre e non è del tutto corrisposto, ma sempre di amore si tratta. E volevo dirvi che queste due parole, proibito, proibizione, limitazione e amore, non possono coesistere perché l'amore sarà, è stato ed è sempre libero. Grazie. 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 Spero di trovarli insieme a voi. E vi auguro, auguro a tutti voi di trovare veramente l'amore, la serenità, e la felicità. Dato che abbiamo un ragazzo di vita sola, godiamocela, grazie. Amore Grazie